Ciao, sono Giorgia, ho 15 anni e mezzo e vengo da Bari. Ho già avuto delle esperienze teatrali in passato e oggi sono qui per propormi nel ruolo di Beatrice. Bene, la domanda c'era scritto di presentare un po' se stessi. Beh, io un po' di me lo vedo in questo libro, lo vedo nel personaggio di Beatrice. Sapete, nel libro è stata la cosa che mi ha colpito di più. Per la sua forza. Beatrice ha affrontato la morte con il sorriso. E lei e Leo si sono dovuti a trovare faccia a faccia con una realtà che non è il massimo per degli adolescenti. Ecco perché volevo propormi per interpretare e rendere giustizia soprattutto al personaggio di Beatrice. Perché voglio gridare al mondo che la felicità può sconfiggere la morte, che l'amore lo può sconfiggere e soprattutto che i sogni non possono morire. E alla fin fine questo libro insegna questo. Beatrice vivrà sempre nei cuori di coloro che l'hanno amata. E così vivrà in eterno e quindi avrà sconfitto la morte. Ci tardi davvero tanto ad interpretare il ruolo di questo bellissimo personaggio e dirvi che questo libro mi ha davvero cambiato per un certo qual modo ciò che erano le mie, diciamo, il mio punto di vista. Per il resto, come vi ho detto prima, ho avuto già delle esperienze teatrali in passato. Spero che riconosciate qualcosa che è davvero importante per recitare, cioè la passione. Quindi un bacio, spero di avere notizie. Ma ciao, ciao! 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 !